Figliuolo, salgono a 24 i comuni che aiuteremo, stanziati dal governo altri 55 milioni di euro e rimborsi al 100% ai privati, lo ha annunciato il commissario straordinario in visita nel Pesarese. Area di rimpasto nella giunta a Quaroli con due nuovi assessori, pronti a Ciarri e Lucentini in quota Lega, ma resta decisivo il confronto tra il governatore e la coordinatrice del carroccio, Giorgia Latini. Claudia Gerini e la sua passione per la pasta, l'attrice romana madrina della Casa del Gusto di Conad Adriatico, dodicesima edizione della Kermess con oltre 200 produttori. Ascoli, ora torniamo a fare tre punti, l'invito di Patron Pulcinelli in vista del match di sabato con la Sampdoria, favola forse empronese, prima, dopo 14 anni in serie D, ora Riccione e Samp. Buonasera dalla redazione di Vera TV, ben trovati a questa nuova edizione del TG Marche, come avete sentito dai nostri titoli, apriamo con quelle che sono delle buone notizie per chi ha subito danni dall'alluvione, poiché il generale Figliuolo, proprio quest'oggi in visita nel Pesarese, ha annunciato che ci sono altri 17 comuni inseriti nello stato d'emergenza e il governo ha stanziato ulteriori 55 milioni di euro. Ma facciamo il punto nel servizio di Thomas Delbianco. Ammontano a 55 milioni di euro spalmati nel 2023 e 2024 i fondi stanziati dal governo per gli interventi di ripristino e ricostruzione post-alluvione dello scorso 16 maggio. Lo ha annunciato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Figliuolo ha partecipato nella sede dell'ente provinciale di Pesaro-Urbino, a Pesaro, ad un incontro operativo con provincia, regione e sindaci dei 7 comuni nel nord delle Marche che già si sono visti riconoscere lo stato di emergenza, con i primi 4 milioni di euro stanziati per gli interventi di somma urgenza. Altri 17 comuni nelle Marche sono stati presi in considerazione dal Dipartimento del Commissario per un'estensione dello stato di emergenza. 5 comuni nella provincia di Pesaro-Urbino, Macerata-Feltria, Pian di Meleto, Tavoleto, Frontone e Urbagna, 2 comuni nel Maceratese, 9 nel Fermano e Senigallia nell'Anconetano. Parliamo di più di 55 milioni, 55 milioni e 160 mila euro, di cui oltre 25 milioni con esigibilità 23, quindi opere che saranno tutte fatte nel 23 o progettate nel 23 e poi i successivi 27 milioni saranno nel 24, opere del 2024. Quindi ritengo un buon quadro e poi chiaramente come ho detto in sala agli amministratori locali, siccome l'alluvione è molto complessa ed è diverso rispetto a un sisma, che chiaramente anche quella è una tragedia, ma una volta avvenuto a bocce ferme si capisce bene cosa fare, nell'alluvione un intervento che oggi si pensa procrastinabile potrebbe diventare di sommorgenza perché magari una frana si muove e noi col buon senso agiamo subito, non è che dice siccome non era perimetrato non lo mettiamo, volevo rassicurare questo. Così come tutti gli interventi che hanno un nesso causale con l'alluvione, sulle opere pubbliche, strade, fiumi, vengono fatte indipendentemente se l'area è inserita o meno nell'emergenza. Ristori per famiglie e imprese completi con il tempo necessario che ci vuole a istruire le pratiche e tutto il resto. Come ha detto il Presidente Meloni. Entro fine anno inizieranno i ristori? Entro fine anno inizieranno i ristori, corretto. Figliuolo ha annunciato a breve un'ordinanza relativa ai fiumi e alla difesa idraulica che conterrà un quadro di semplificazione importante e dopo l'incontro in provincia ha effettuato un sopralluogo nelle aree alluvionate di Monte Grimano Terme. La Regione Marche ha chiesto per tramite dei comuni 171 interventi sul territorio. Abbiamo anche individuato dei criteri là dove era piovuto di più, là dove c'erano maggiori danni evidenziati dai comuni. Abbiamo sovrapposto questi criteri, abbiamo richiesto nuovi sopralluoghi in 53 di questi comuni marchigiani, ulteriori 53. La visita da parte del Dipartimento Nazionale della struttura del generale Figliuolo è avvenuta puntualmente e li ringrazio, ma di questi 53 comuni di nuovo rivisitati, solo 17 attualmente sono stati presi in considerazione. E quando dico presi in considerazione non uso un'altra parola perché ancora non è stato dichiarato su questi lo stato d'emergenza, ma sono fiducioso che questo avverrà. Apriamo adesso la pagina politica, rimpasto nella giunta Acquaroli con nuovi assessori in Casa Lega. La patata bollente ora passa al Presidente della Regione, di ritorno dal Festival delle Regioni. Il Governatore infatti deciderà dopo un confronto con la segretaria regionale del Carroccio, Giorgia Latini. Ascoltiamo Ciro Montanari. La patata bollente passa al Presidente Acquaroli che, di ritorno dal Festival delle Regioni di Torino, dovrà trovare una soluzione al rimpasto della giunta regionale, con la proposta avanzata dalla Lega che vorrebbe sostituire due di tre suoi assessori. E proprio in Casa Lega, bucche cucite sia da parte della coordinatrice regionale, Giorgia Latini, che dal Vice Presidente Assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, e poi da Andrea Maria Antonini con deleghe allo sviluppo economico e da Chiara Biondi con deleghe a istruzione e cultura. Le voci insistenti continuano a parlare di ingresso in giunta di Mauro Lucentini e Monica Ciarri, ma tutto dipenderà dal confronto che avrà il Governatore Acquaroli con la segretaria regionale della Lega, Latini. Altre voci di Palazzo lasciano addirittura ipotizzare che gli assessori Antonini e Biondi potrebbero scegliere di andare nel gruppo misto oppure di aderire al gruppo ricivici. Una situazione di certo molto complicata che si aggiunge al passaggio alla Lega di due consiglieri, Simona Lupini, eletta con il Movimento 5 Stelle e ora nel gruppo misto, e Luca Santarelli di Rinasci Marche, originariamente all'opposizione, ora con Forza Italia. Si tratta di una lettera di Mauro Assuagio, perché di più non si può fare, essendo il regolamento molto chiaro. La volontà deve essere dei consiglieri interessati per un cambio di gruppo, ritenendo che l'intendimento del gruppo di appartenenza non sia più quello con cui a lui fa attività politica, quindi nell'impegno della sua finalità di natura politica. L'articolo 19 del regolamento è molto chiaro, applicandolo probabilmente è una formalità che pesa, ma che indubbiamente deve essere rispettata, perché chiaramente ogni consigliere svolge il proprio impegno all'interno del gruppo e in generale secondo i suoi intendimenti, quindi secondo le sue inclinazioni. Non possiamo che rispettarlo, questa lettera è qualcosa in più per sollecitare, in senso del tutto buono, gli eventuali interessati a far sì che prendano una decisione se rimanere negli attuali gruppi oppure cambiare gruppo o in qualche modo non appartenere più al gruppo attuale e quindi aderire al gruppo misto. Quindi questo serve solo per dare, come posso dire, una spinta in più, ma davvero di natura simbolica e senza ledere i diritti che sono sacri per chi svolge l'attività di consigliere regionale. Veniamo alla cronaca, esplode una bombola di gas in un appartamento, tragedia sfiorata. Ieri sera nel Piceno, ustionato un quarantenne. Luigi Miozzi. Tragedia sfiorata martedì sera nel Piceno. A Montalto delle Marche, nella frazione di Porchia, una bombola di gas è esplosa all'interno di un appartamento, ustionando gravemente una quarantenne di origini marocchine, proprio mentre stava rientrando nella propria abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e le conseguenze potevano essere ancora più drammatiche. L'uomo comunque è stato trasportato all'ospedale di San Benedetto del Tronto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'esplosione sia stata innescata nel momento in cui l'uomo ha cercato di accendere la luce nella sua abitazione. Dopo aver varcato il portone d'ingresso al piano terra, il quarantenne ha raggiunto l'interruttore, ma ha provocato uno spaventoso scoppio. Molto probabilmente il malfunzionamento di una stufa aveva causato la fuoriuscita di gas. La deflagrazione ha provocato un violento spostamento d'aria che ha divelto gli infissi delle finestre e il portone d'ingresso. L'uomo è stato investito dalle fiamme e ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118 con personale medico che ha fornito le prime cure al ferito. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sconvolti i residenti del paese. Sì, ho sentito un rumore strano, ma che c***o è successo? Infatti dopo è uscita mia moglie, che io cammino male con la gamba, ho un problema al ginocchio. E allora è cominciato ad arrivare i vigili del fuoco, l'autombulanza, quattro autombulanze, il maresciallo e i compagnieri, i carabinieri. Poi ho sentito che questo ragazzo, questo marocchino, l'ha sbattuto fuori dal balcone della cucina. Allora ha sfondato la finestra e praticamente è cascato giù la strada, la strada sottostante, giù la stradella. Quello che si è fatto non lo so, perché dopo è stata l'ambulanza, è stata via, però era abbastanza grave. Siamo usciti, abbiamo visto tutte queste persone e ho sentito che è una bravissima persona. Mi è dispiaciuto tanto che non l'ho potuto salutare sull'ambulanza, perché è dolcissimo. Lui lavorava in campagna, quest'estate ci portava i cocomeri, i meloni, i quadri fuori. No, no, è una persona gentilissima e spero con tutto il cuore che non si sia fatto niente, tanto di grave, capito? Purtroppo certe cose possono succedere. L'incidente ha richiamato alla memoria dei cittadini di Montalto il tragico evento che belloago nel dicembre del 2011, quando a causa di una fuga di gas si verificò un'esplosione che causò la morte di tre persone e il ferimento di una quarta. Risalirebbe ad almeno un mese fa, ma forse anche di più, la morte del cadavere mummificato ritrovato nelle campagne di Fano. Ascoltiamo Thomas Delbianco. È ancora avvolta nel mistero la scoperta del cadavere quasi mummificato ritrovato nella tarda mattinata di martedì da un cercatore di funghi nella pineta di Ponte Metauro, zona sud di Fano, in un'area isolata, distante dalle abitazioni. Il corpo, adagiato sull'erba, con molte probabilità dovrebbe essere di un immigrato di origine africane, apparentemente giovane. Pare che nessuno lo stia cercando. Gli inquirenti hanno verificato le denunce di scomparsa, ma appaiono troppo recenti per essere compatibili con lo stato di conservazione del corpo. Il cadavere si trovava nella radura da almeno un mese, ma potrebbe essere trascorso più tempo dalla morte fino alla scoperta. Il PM Ernesto Napolillo, che si occupa dell'inchiesta, ha autorizzato la rimozione della salma, che è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Santa Croce di Fano, in attesa dell'autopsia. Bisognerà attendere proprio gli esiti dell'esame autoptico, che oltre a circoscrivere il periodo della morte, dovrà stabilire le cause del decesso. A una prima analisi, il corpo non presentava lesioni o ferite riconducibili ad aggressioni. Questo rende piuttosto improbabile non solo l'ipotesi di un omicidio, ma anche l'ipotesi che possa essere stato trasportato lì da un altro luogo, magari dal posto dove è avvenuto il decesso. Proseguono le indagini del commissariato di Fano e della polizia scientifica. Non risulta che negli ultimi tempi siano stati notati movimenti di persone, ed immigrati in particolare, in cerca di alloggi di fortuna. E secondo le testimonianze delle persone sentite dalla polizia, non ci sono ruderi o abitazioni abbandonate che potessero fungere dal ricovero per senza casa. Dare un nome o un cognome a quel corpo senza vita non appare un lavoro semplice. In assenza di documenti, un aiuto risolutivo potrebbe venire dalle impronte digitali, ma lo stato di conservazione del cadavere è un punto interrogativo anche in questo senso. E non ci sono certezze che il riscontro possa essere effettuato. Lotta allo spaccio è stato arrestato dai carabinieri un 23enne di Ancona, sequestrati oltre 8 chili di hashish. Sentiamo. In sette mesi, oltre 7 chili di hashish sottratti al traffico e allo spaccio di droga. Il maxi sequestro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo, insieme ai militari della compagnia di Ancona. A finire in manette, un 23enne della cittadorica. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Ancona e scaturisce dalle indagini coordinate dalla Procura. A carico del giovane, già noto alle forze dell'ordine, gli inquirenti hanno raccolto forti indizi di colpevolezza per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestri effettuati dal mese di marzo per quasi 8 chili di hashish. Il primo blitz dei militari è scattato a Numana, in un appartamento da lungo tempo disabitato. All'interno dell'immobile è stato trovato un borsone dove erano stipati 22 panetti di hashish di 2,2 kg ciascuno. Nel corso delle indagini, a maggio e a luglio ad Ancona, i militari della compagnia d'Orica hanno arrestato in fragranza di reato altre due persone, trovate in possesso di 300 g di hashish, oltre a 5 kg di droga ceduta dal giovane anconetano. Il 23enne arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Ancona. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e eventuali responsabilità saranno valutate dall'autorità giudiziaria. Una metropoli di circa 150.000 abitanti è quella che ha in mente il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, per la fusione di piccoli comuni tra cui Falconara, Sirolo e Numana. Sentiamo Sergio Cinquino. Una super città di quasi 150.000 abitanti. Fa discutere, ma intercetta anche tanti consensi, la proposta del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ha avviato un dibattito destinato ad entrare nel vivo sulla nascita della grande Ancona, una città metropolitana che ha in mente il primo cittadino d'orico e che coinvolgerebbe, oltre al capoluogo, Falconara, Numana, Sirolo, Camerano, Agugliano e Polverigi per un bacino complessivo di circa 148.000 abitanti, con i vantaggi dei servizi ottimizzati e messi a sistema, a cominciare dalla metropolitana di superficie, che potrebbe essere il primo passo e poi maggiori trasferimenti dallo Stato e abbattimento dei costi per la macchina amministrativa. La grande Ancona si struttura nell'individuazione di alcuni obiettivi, che sono quelli della competitività del territorio dal punto di vista economico e soprattutto nell'efficienza dei servizi. Ci sono delle infrastrutture per noi che sono imprescindibili, la metropolitana di superficie, quella che mette in collegamento Falconara-Ancona e la riviera del Conero, e quelli che sono ovviamente gli aspetti legati allo sviluppo ad esempio del comparto del turismo, avere una cartellonistica unica, avere la possibilità di collegarsi tutti al brand più famoso, il conero del Conero, e quello del rilancio di Ancona Nord, cioè dalla parte relativa a Falconara, quella che necessita magari di alcuni accorgimenti dal punto di vista infrastrutturale e poi lo sviluppo ovviamente della parte portuale, che è una parte comune come la parte di Falconara, mi riferisco a Lungomare Nord, a quelle che sono chiaramente i completamenti delle infrastrutture per uscita dal porto. Un progetto sulle orme di quello già avviato dalla vicina Pescara e che porterebbe con sé anche una maggiore attrattività della città metropolitana, che potrebbe chiamarsi Nuova Ancona. Ecco, tutti questi aspetti tecnici, infrastrutturali, se sopportati tecnicamente ma anche politicamente da un bacino molto più grande e più consistente, aiuterebbero non solo a ritrovare risorse maggiori ma anche avere una forza propulsiva maggiore. Colto sul fatto sono scattate le manette. Un 34enne rumeno già noto alle forze dell'ordine nella notte si è introdotto in un ristorante cinese di via Piemonte a San Benedetto del Tronto, quando l'uomo ha tentato di mettere in atto il furto e scattato l'allarme. I proprietari, ricevuta la notifica dell'effrazione, hanno avvisato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Benedetto che in pochissimi minuti hanno raggiunto il ristorante cogliendo in flagranza di reato il 34enne che è stato sorpreso nel locale mentre aveva con sé tutta una serie di arnesi da scasso. I militari dell'arma lo hanno identificato e arrestato e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restiamo a San Benedetto del Tronto, primo giorno di rivoluzione per la viabilità in via Monfalcone. Siamo nella zona del Lungomare Nord e allora sul post è andata la nostra Rossella Luciani ad ascoltare anche le voci di esercenti e residenti. Nuova viabilità in via Monfalcone a San Benedetto del Tronto per via di un cantiere privato, questo alle mie spalle, che resterà qui almeno fino a gennaio del 2024. Il Comune ha posto un divieto, dunque si può circolare attualmente solo dal Lungomare in direzione ovest. Una novità che ha sorpreso i residenti e che sta causando qualche disagio. Siamo andati a sentirli. Ne avevamo parlato anche con il responsabile della viabilità. Con un cantiere nuovo, con una gru in posizione, forse è stata la soluzione migliore. Era stata pure accordata dalle parti perché o chiudere tutta la viabilità era impossibile, il senso verso la mare, verso via De Caspi, ci è sembrata la più sensata. Capisco la difficoltà, soprattutto dei primi giorni, nella nuova versione. In pochi minuti diverse auto hanno imboccato la via Contromano, nonostante i due divieti e la grossa scritta stop a terra. Ma si spera che con il passare dei giorni gli automobilisti ci facciano l'abitudine. Viene inoltre stabilita l'interruzione al transito pedonale, in via Monfalcone lato sud nel tratto di marciapiede antistante il cantiere. E anche in quel caso i pedoni dovrebbero camminare in quello opposto e non in mezzo alla strada. Alla fine è soltanto una questione di abitudine, ecco. Non vedo grossi cambiamenti, sinceramente. Anzi, forse avevano un guadagno anche un po' più gli stop, no? No, no, però per il momento va bene, dai. A me non interessa, all'età mia non interessa più niente. Solo che per l'estate già è un ingrocio pazzesco adesso. Perché quelli che vengono di su devono dare la precedenza a quelli che vengono di giù. Quindi è un ingorgo, vabbè, comunque stanno fabbricando e chi comanda fa legge. Voi che lavorate qui, quali sono un po' i commenti? Beh, effettivamente è un po' un disagio. Molti ancora non si rendono conto chi va dritto, chi si ritrova la macchina davanti. Però molti altri sono un po', come ti devo dire, un po' scocciati. Perché comunque sia si devono allungare o a destra, a sinistra, di via Trento. E quindi un po' ci penalizza. E se la sperimentazione dovesse essere adottata anche in futuro? Ma non è una novità. Queste qui, quando hanno finito il cantiere, levano tutto, rifanno il doppio senso. Per lo meno il sindaco ci ha detto così, non abbiamo parlato col sindaco. Si parla anche di una sperimentazione che potrebbe durare anche per la prossima estate? No, non penso. Hanno detto che a marzo levano tutto. Così ci hanno detto a noi. Ma non so se è vero o non è vero. Fermo festeggia San Francesco, messa solenne, ufficiata dal Vescovo. E allora ascoltiamo Donatella Lappa. 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, che a Fermo, dove c'è il Tempio dedicato al Santo, si celebra in maniera solenne. La chiesa di San Francesco, situata alla fine di Via Perpenti, rappresenta uno dei principali monumenti gotici delle Marche, che con la sua abside poligonale, caratterizzata da vetrate istoriate, accoglie a Fermo i visitatori che arrivano dalla costa. Secondo luogo di culto, più grande dopo il Duomo, San Francesco è stata profondamente ferita dal sisma nell'ottobre 2016, e seppur restaurata, ne porta ancora a segni visibili nelle colonne ingabbiate. Il silenzio e il vuoto della mattina, interrotti solo dalla visita di qualche fedele, alle 18 hanno lasciato il posto alla solenne celebrazione, ufficiata dal Vescovo Rocco Pennacchio. Cosa si festeggia oggi in particolare? Beh, certamente la ricorrenza della sua morte. Certamente ricorrendo la sua morte si ricorda tutta la sua vita, la sua santità, il suo amore a Dio, il suo amore ai poveri, ma la Chiesa in modo particolare ha amato e che si è sentito chiamato a ricostruirla. Una ricostruzione della quale, penso, ci sia bisogno anche oggi, in questo momento difficile, storicamente difficile? E' certamente la nostra vocazione di cristiani, di credenti, di sacerdoti in modo particolare, di stare dentro la Chiesa, dentro la comunità cristiana, per ridare vigore, per ridare fede, per ridare grinda, a bandaggio dell'umanità intera. La celebrazione della festa di oggi è stata preceduta da tre giorni di preparazione in collaborazione con la comunità dei frati Cappuccini di Fermo, culminata con la liturgia del transito di martedì 3 ottobre, durante la quale è stata impartita una speciale benedizione a tutti i giovani presenti. Due terremoti e tre interventi di recupero nella storia degli ultimi cento anni del Teatro Rossini di Pesaro, uno dei gioielli in vista dell'anno della cultura per la città. Ascoltiamo Thomas Delbianco. Il 30 ottobre 1930 un terremoto di magnitudo 6.0 ferì profondamente il Teatro Rossini di Pesaro. Quattro anni più tardi, dopo i lavori di ristrutturazione, la riapertura. Nel 1966 un'altra chiusura, questa volta causata dalla formazione di crepe nelle pareti e il deterioramento dei componenti in legno. Ci vollero 14 anni per alzare nuovamente il sipario sul gioiello pesarese, in concomitanza con la prima edizione del Rossini Opera Festival. Negli ultimi mesi il teatro, intitolato all'immenso compositore pesarese, è stato sottoposto ad un intervento di ricianamento del valore di 1,3 milioni di euro che ha incluso anche la Sala della Repubblica, la terza opera di recupero in poco più di 90 anni. E ora il Teatro Rossini è pronto a mostrarsi alla città e ai turisti in tutta la sua bellezza. Il teatro è pronto, in tempo, con un po' di anticipo per l'anno della Capitale della Cultura? Sì, per la Capitale della Cultura, in realtà in tempissimo per la stagione di prosa che inizierà il 12 ottobre, ma ci saranno alcuni momenti prima. Lavori importanti che anche in corso hanno avuto anche dei problemi, il nubifragio, il terremoto? Sì, molte variabili, molte difficoltà date soprattutto dal terremoto che ha complicato il quadro di una porzione, del teatro, di un edificio, il teatro fatto di più edifici collegati, uno di questi che però riguardava l'ingresso artisti, riguardava gli spazi del custode, le segreterie e ha avuto un ammalaramento per il cedimento del terreno sottostante, non avendo particolari fondamenta, una struttura abbastanza recente, quindi sono stati necessari interventi importanti, molto importanti, anche in seguito delle seguenti scosse di assestamento per rafforzare questa parte. Quindi capite che tra le ricerche di finanziamenti, l'assegnazione e la realizzazione si è riusciti però a centrare l'obiettivo che ci erano dati dell'estate, fondamentalmente per poter avere un autunno che ci direzionasse direttamente verso la capitale della cultura, mentre la Sala della Repubblica è già attiva dalla primavera scorsa, non l'avevamo ancora inaugurata ma di fatto non ha avuto un giorno di sosta tra i momenti aperti al pubblico e tanti momenti in back, soprattutto per le prove, per le residenze d'artista, danza in primo luogo, ma anche prove d'orchestra, prove di tanti ensable che si sono ritrovati in questi giorni perché svolge un lavoro veramente importante per una città che ha tantissime produzioni quotidianamente. Claudia Gerini, madrina della Casa del Gusto di Conad Adriatico, aperta a Monsampolo del Tronto la dodicesima edizione della Kermess che fa incontrare i soci con i produttori di tutta Italia. Rossella Luciani. Tre giorni per conoscere il meglio dell'enogastronomia italiana, è possibile fino al 6 ottobre aprendo la porta della Casa del Gusto all'interno della sede Conad Adriatico di Monsampolo del Tronto, una manifestazione simbolo della visione aziendale Conad che mette da sempre al centro la valorizzazione dei territori. Siamo alla dodicesima edizione appunto e ci siamo fermati per il Covid, perché quindi una l'abbiamo quasi saltata. Siamo a perseguire con questa manifestazione dei valori. Quindi questa manifestazione contiene dei valori soprattutto che li esprimiamo andando alla ricerca di particolarità assortimentali, di differenziazione, di specializzazione. Oltre 200 produttori per un vero e proprio laboratorio di eccellenze e tante novità che presto arriveranno anche sugli scaffali dei supermercati. Ma soprattutto un punto di incontro tra soci e produttori che vede Marche Abruzzo tra le regioni con più punti vendita. In Abruzzo, che è la nostra regione storica di sviluppo, siamo leader di mercato, abbiamo oltre 140 punti vendita e un fatturato complessivo, considerando anche il Molise, di circa 800 milioni di euro. Nelle Marche siamo meno presenti, ma perché la regione non è in capo con Adriatico, abbiamo circa 70 punti vendita per un fatturato di 350 milioni di euro. A sorpresa, tra gli stand dell'attrice, Claudia Gerini, testimonial di un noto marchio di pasta abruzzese, una madrina perfetta per la Kermess, che si è descritta come una buon gustaia, ma anche un'ottima cuoca. Io amo cucinare i primi, mi piacciono i primi, mi piace fare le fettuccine al ragù, e devo dire che il ragù mi viene bene. Poi mi viene molto bene la pasta alla norma, quelli in melanzani, ricotta salata, mi viene bene la carbonara e la matriciana, quello che ho detto. I secondi sono meno fantasiosa, diciamo, sui secondi non sono così elaborata. I primi mi vengono bene, quindi a casa mia non si va via con la fame. Per il gran finale venerdì, una giuria di esperti assegnerà i premi a migliori prodotti di ogni settore, mettendo in luce l'impegno di chi porta sulle tavole la tradizione del Made in Italy. Da oggi c'è il ciauscolo marchigiano, che è stato fatto, sapori dintorni, e che verrà diffuso su tutte le cooperative. Speriamo che il resto degli italiani piaccia questa nostra specialità. Quindi, prodotti che portano economia e cultura in tutta Italia e che provengono dal nostro territorio. Siamo in chiusura, vi aspettiamo tra pochissimo per la nuova edizione del TG Sport. Rimanete con noi!